salve gente allora mi stavo organizzando per fare un video cercando di capire un po la situazione lazio senza fare realmente mercato cercando di capire cosa abbiamo magari fuori rosa cosa c'è tipo dove poter cambiare dove poter migliorare e niente niente ragazzi perché mentre stavo facendo questo e quindi stavo anche un attimo documentando perché poi ho perso anche un po di vista quello che c'è fuori rosa quello che abbiamo in giro mi ero riconcentrato su un nome che per chi segue il canale anzi tu che stai guardando se non sei tra quelli iscritti iscriviti vai sulla campanellina così da rimanere aggiornato su tutti i contenuti vatti a rivedere magari anche i vecchi video dove facevo un nome un giocatore che ragazzi abbiamo in casa e che abbiamo tenuto per tutti questi mesi fuori rosa dopo che è venuto ha fatto il ritiro due partite amichevoli di cui una giocata a metà e una intera ed è stato deciso di essere che è un giocatore che andava fuori rosa nonostante venisse da un campionato giocato benissimo con bel bel gol e sto parlando di king king giovane che alla salernitana lo scorso stagione lo scorso piano ha fatto veramente bene sia da trequartista ma anche da sinistro di centrocampo quindi da fatto cross ha fatto belle discese un giocatore molto interessante che avrebbe bisogno di più spazio avrebbe bisogno di anche di una crescita sì per carità perché non è un giocatore pronto e al 100 per cento giocatore che deve crescere sul campo ma il buon in sacchi ha preferito dopo rispetto due amichevoli non metterlo in lista quando è stato da fare le liste king non risultava in lista e da lì andare a vedere i vecchi video io ho cominciato ad avere già qualche dubbio con di ma come è possibile un giocatore comunque anche già a me personalmente prima che lo prendesse la lazio a me mi piaceva già dal chievo proprio una partita contro di noi all'olimpico fece una gran partita ci mise molto in difficoltà e quando ho visto e andate a vedere il video su questo punto quando ho visto arrivare per eira io la prima cosa per chi si ricorda il video cosa dissi detto ma perché andare a prendere un giocatore che comunque per quello che avevo visto io non ha mai espresso nulla di che se non facendo vedere delle potenzialità che ha dimostrato di avere anche king non solo rispetto a pereira king non solo ha giocato nel campionato italiano ma ha fatto dei gol spettacolari cosa che non è mai successo per quanto riguarda pereira in tanti anni di manchester qui ho detto perché prendere un trequartista un centrale trequartista quando ce ne hai uno in casa tuo di proprietà ripeto noi abbiamo un problema enorme 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 per quanto riguarda l'indice di liquidità questo indice potrebbe allargarsi con delle plus valenze tu che ne hai pagato due soldi valorizzalo e in caso rivendilo se proprio fa una stagione pessima per te e te lo rivendi anche se lo fai una plus valenza di un milione per noi è sempre ossigeno no fuori rosa un giocatore alasso andiamo a prenderne uno sconosciuto che non conosce il campionato italiano che nel suo campionato non è mai esploso perché non è mai riuscito perché un ragazzo un po alla felipe anderson dove gli serve molto incoraggiamento gli serve molto giocare l'essere messo fuori rosa abbiamo visto come ha raggito quando in quella partita si è riscaldato non ha giocato è uno che ha un morale molto delicato cioè crolla proprio il morale e psicologicamente non regge lo stress diciamo di non entrare in campo quindi stavo pensando ma perché non usano rimettere lista king o al posto di pereira ragazzi mi dispiace va fuori lista e a giugno glielo ridiamo basta se noi lo possiamo ridare subito perché quelli dicono vabbè io ho prestato fino a giugno e mo che fai mo ridare che devo pagare io o mo paghi me paghi l'ingaggio o altrimenti non non me lo ridai però te lo tengo fuori lista o altrimenti ancora diciamo forse una cosa più azzardata visto che comunque con la serenitana ha fatto anche il ruolo di centrale di sinistra discretamente quindi portando dei cross interessanti ma perché non metterlo da fare cioè tu hai preso un giocatore che non sta rendendo che ci sta dando più problemi per cercarlo di dargli spazio quando in realtà non abbiamo la possibilità di dare spazio a chi poi il ruolo non lo copre come lo deve coprire perché ieri a cerbi si è dovuto fare tutta la fascia fino in fondo perché se dava palla a fare se era una palla persa perché non mettere fuori rosa fare se da erdigli oppure oppure dire a fare squadra ti mando a salerno alla salernitana per sei mesi fino a giugno mi giochi lì giocami lì rientrami in forma e poi ritorni a giugno ne riparliamo della cosa oppure se vuoi sta fuori rosa o altrimenti scegliete un'altra destinazione per sei mesi in prestito gratuito e io mi gioco chi in no un giocatore nostro di nostra proprietà lo rimandiamo a salerno io adesso sono curioso di vedere a salerno cosa fa chi in calcolando che il povero ragazzo è stato ha fatto gli allenamenti in disparte per sei mesi e per sei mesi non ha visto un campo da calcio proprio con una partita ufficiale quindi dovrà un pochettino riprendere ma io sono curioso di vedere quello che farà chi in perché per me è assurdo che abbiamo dei giocatori potenzialmente validi che possono mostrare delle qualità che hanno già dimostrato quindi non è che prendi una scatola chiusa tu prendi un giocatore che a salerno ha già dimostrato di che colpi che colpi li ha come del resto tu stai aspettando questo pereira che ogni tanto nel manchester vagamente ogni tanto un colpo l'ha fatto la stessa cosa ma molto di più l'ha fatto king qui in questo campionato e anche nel campionato di serie b che non è per niente facile ha fatto gol ha coperto la fascia ha fatto il trequartista a te ti serve uno che faccia trequartista che stia avanti che sia sulla fascia questo è king lo hai in casa e tu che hai fatto adesso a gennaio subito velocemente me l'hai dato alla salernitana perché non proprio minimamente l'idea di poter dar via fares per farlo giocare da un'altra parte visto che noi non abbiamo più il tempo da aspettarlo o minimamente di levare pereira che tanto visto che anche ha delle clausole anche che tu dovresti andare anche a pagare se gioca un tot minutaggio e tu anche per questo gli stai dando i minutaggi col contago cioè perché vuoi risparmiare anche quei tu soldi da contratto non per riscattarlo proprio perché scattano che se lo usi tanto loro vogliono dei soldi già adesso e tu questi soldi non li vuoi dare il riscatto non avverrà mai a 27 milioni parliamo perché non giocatore che vale queste cifre ma anche se si parla di uno sconto di 10 milioni quindi a 17 milioni non è un giocatore che vale 17 milioni perché io vado a prendere il fratello di miranciuk che giocavano insieme poi lì al come si chiamava locomotive mosca hanno preso quelli dell'atalanta quello che dicono essere leggermente più bravo ma l'altro non è che che fa schifo l'altro si potrebbe prendere benissimo che è un bel giocatore per fare ovviamente il secondo di luis alberto visto che tutti parlano è l'atalanta l'ha visto l'atalanta istanta muoviti come si muove l'atalanta l'atlanta ha preso miranciuk per fare il secondo di ilicic il secondo di tanti giocatori 15 milioni per prendere un secondo e tu invece che prendi un perera sconosciuto in un campionato sconosciuto che inzaghi sta usando anche in un ruolo non suo perché doveva essere il vice di luis alberto e sta facendo invece il vice di correa quando ce l'avevi in casa io sono rimasto deluso ragazzi io non faccio veramente ve lo dico non faccio più mi cascano le braccia non faccio più video per quanto riguarda il mercato riparazioni e cose tanto questi non ci capiscono un cazzo ve lo dico non ci capiscono veramente un cazzo hanno i giocatori in mano non li sanno usare e la colpa molta della colpa la do anche inzaghi questo ennesimo video dove la colpa la do inzaghi perché i giocatori in mano qualcosa ha ma non utilizza un cazzo non gli viene in mente di fare nessun cambiamento non ha le palle non ha le palle e non è in grado di fare i cambi durante la partita sia per tempi e sia per scelte veramente veramente mi avete fatto due coglioni così con questo inzaghi che è il re dei di cose solamente perché è laziale perché se non era laziale se veniva da un'altra città se veniva giù giù da campania sono sicuro che non stavate romper cazzo con questo inzaghi no inzaghi è solamente perché è una vita che sta la lazio e perché ama la lazio il che è lodevole ma a me me ne sbatto il cazzo del fatto di averci un allenatore che comunque non è in grado di valorizzare quello che ha se non quelli che che ho ufficialmente sono già dei bravi giocatori ma dove devi portare altri altri dove devi far crescere anche gli altri troppo semplice troppo semplice gioca sempre con quelli gli stessi e quegli altri e vabbè vedremo non essere in grado di capì chi chi va sostituito non essere in grado di capì quando va sostituito non essere in grado di capì che esistono altri moduli quando non c'è i giocatori quando non c'erano i terzini abbiamo messo parolo sulla destra e ha fatto disastri piuttosto che cambia modulo quando ieri stavamo subendo che ci avevamo giocavano in dodici contro dieci praticamente perché od giocava con loro anzi no dodici contro contro otto perché noi fares e pereira non ce l'avevamo un campo qui noi giocavamo in otto e loro in dodici grazie a od che giocava con loro e non si è stato in grado di capì che era era meglio giocare 4 e non in 5 levando levando od dalla difesa ma me l'hai fatto due palle basta ma basta i risultati sì ma la squadra c'è di fondo la squadra c'è la squadra c'è di fondo la squadra c'è e sta squadra ci sarebbe anche con un altro allenatore aprite gli occhi anche con un altro allenatore ci sarebbero questi giocatori perché giocatori di qualità possono rendere se messi in condizioni di rendere il problema che bisogna vedere se effettivamente il 352 sempre comunque è quello che rende di più per questo voglio vedere un altro allenatore che voglio vedere altri schemi altri altre situazioni di gioco dove voglio vedere se questi giocatori possono rendere di più e io sono convinto di sì e il non utilizzare i vavro gli armini i moro i chi in tutta sta gente qua e poi lamentarsi che non ai giocatori sono cazzi tuoi sono problemi tuoi perché se tu che hai scelto od se tu che è voluto alla squadra l avuto la riconferma se tu che è mandato via bastos e te sei tenuto patrick ragazzi vabbè insomma volevo fare un video ripeto dove c'erano gli ennesimi consigli che davo ma me sono reso che cazzo che consiglia a questi che che i nomini kenny lala che sta in uscita che che con tre milioni due o tre milioni te lo porti via e rimetti a posto una parte vuoi fare altre 52 allora fatte comprare giocatori per fare 352 con le fasce invece no no famo il 352 da quattro anni c'è sempre eseghe su su dell'amando cazzo c'è ma tu voi vi rendete conto cioè noi abbiamo un 352 da quattro anni non ci scodiamo da lì e noi andiamo a prendi durmisi ioni fares dell'accemo solo lazzari a massimo vocemo patrick o marusic e volevo fa ancora 352 cioè io boh aprite gli occhi o aprite gli occhi vi prego vi prego perché vi siete vi siete fossilizzati su in zaki che a tutti i meriti del mondo acqua ha vinto ha vinto ma ha vinto pure quando l'arte stavano veramente messi malino messi malino a parte la juve però quante difficoltà all'inter quante difficoltà il milan societarie di scelte di giocatori quante difficoltà cambi di allenatori continui quante difficoltà senza toglie tutti i meriti tutti i meriti che c'è in zaki in zaki c'è tantissimi meriti però arrivi a un certo punto che poi vede anche altro io sono di quelli che voglio vedere anche altro a rischio deve deve peggio ma voglio vedere se esiste altre alternative almeno che in zaki in un ottordi ad essere in zaki del primo anno dove sperimentava anche altre altre formule ha iniziato a vincere col 352 e non si è più schiotato ma non va bene perché i giocatori non ci sono sempre va bene se fai solo il campionato e te fa la coppetta ma se deve fare competizioni anche più competizioni importanti basta devi trovare delle alternative e il 442 si è sempre dimostrato un modulo dove noi abbiamo fatto bene dal primo anno abbiamo sempre fatto bene ma da lì non si ritorna più ok ragazzi dai ci rivediamo con un altro video pure questo è stato un altro piccolo sfogo ripeto non parlerò più di mercato se non ufficiale una cosa ufficiale cioè se arriva qualcuno allora ne riparlo altrimenti basta ma rendo perché tanto questi dei giocatori che ci hanno in mano non sanno che cazzo faccio ci hanno perché immobile c'è il parao si immobile in zaki c'è il paraocchi e tale invece c'è proprio e radar su solamente sue zone di kosovo arbania cose c'è in olanda lì non trova un cazzo in danimarca non trova niente in russia non trova niente in belgio non trova niente cioè quelle sono so veramente cucine di evviva i ricchi dei talenti lì non troviamo un cazzo forse perché costano troppo a borsciari de merda